Oggi visita i defundi. A parte i defundi, comunque, il cimitero di Luca è un bel cimitero. Cioè, voglio dire, incontrata gli altri cimiteri. Qua c'è molto spazio. Man mano questi sono quelli che ogni 12 anni vengono disseppelliti per fare nuovo posto. Lì sono tutti i morti nuovi. Qui sono quelli di 25, 25, 24, vabbè. Le cappelle, quelle più antiche stanno lì sopra, le ultime due. E tutta questa sede, questa qui. Vabbè, va da sotto. Quanta gente si è morta e quanta gente continua a morire. Qua quanto prima tocca pure a me. Io non ci penso. La morte arriva all'improvviso. Non ci sa quando. non ci sono nulla, ma è che non è che è sadia.